Alla fine è ballottaggio. Un lungo spoglio rallentato da numerosi voti disgiunti, per Urbino ha decretato il ritorno alle urne. Al sindaco uscente Maurizio Gambini e alla sua coalizione Città Concreta non è bastato il 48% per avere la meglio sullo sfidante Federico Scaramucci che ha raccolto il 45%. In mezzo Maria Francesca Crespini con la lista futura che si è fermata al 7,3% ma che potrebbe tornare in gioco con il ballottaggio. Un vero e proprio testa a testa quello tra Gambini e Scaramucci che ha visto il primo conquistare 7 seggi su 20 per lo più nei borghi mentre le preferenze raccolte dal secondo si sono concentrate in centro. E così la speranza di eleggere il sindaco al primo turno è sfumata mano a mano che arrivavano i risultati. Dicevamo che vincevamo il primo turno però con 220 candidati dall'altra parte su una popolazione votante di 8.500 votanti vuol dire solo dall'altra parte 220 candidati vuol dire veramente aver portato a casa un grande risultato. Adesso ovviamente la parola è agli elettori che hanno una proposta chiara da una parte insomma chi ha governato 10 anni e dall'altra hanno una proposta nuova con un progetto per poter ridare attrattività a questa città, cercare di riportare abitanti, di riportare anche attività di imprese nuove. E così la città ducale, vero e proprio caso nazionale in quanto essendo una provincia sotto i 15.000 abitanti ha avuto la possibilità delle liste collegate e di poter eleggere 32 consiglieri comunali, tornerà alle urne. A vincere al primo turno è stata invece la partecipazione al voto con il 70,99% è la più alta tra i capoluoghi di provincia marchigiani alle urne.